Il Vaticano ha sempre delegato allo Stato italiano tutto quello che avviene di criminale dentro le mura vaticane. Poco prima di questo triplice delitto, di questi tre cadaveri, un turista americano si era suicidato in San Pietro. Non c'era niente da indagare, se non da riconsacrare la chiesa, eccetera. Eppure anche questa inchiesta su un semplice suicidio venne affidato alla magistratura italiana. Poco dopo ci sono tre cadaveri e non solo magistratura, polizia giudiziaria, servizi segreti non riescono neanche ad avvicinarsi alla stanza dove sono stati trovati questi cadaveri. Ma prima la fretta, praticamente la scoperta dei cadaveri è delle 19, alle 24 Navarro Valsa ha già dato ai giornalisti la soluzione e rimarrà sempre quella. Ma la stessa inchiesta che dicono di aver fatto i giudici, che poi sono italiani ovviamente, i giudici interni al Vaticano non verrà mai resa nota.